Umberto Amoroso Una cooperativa che lavora investendo sulle risorse umane, informazione e serietà si possono fare grandi cose e la cosa più bella che mi ha sempre colpito della cooperativa della Diamante è che ha sempre valorizzato l'uomo per cui i loro dipendenti non sono mai stati considerati dei numeri ma degli esseri umani per cui tutto il loro rapporto sul sociale del lavorare nei confronti delle loro famiglie è un valore aggiunto incredibile e per questo oggi sono onorato di aver partecipato al decennale e veramente do tanti auguri a questa cooperativa di avere grandi successi In questa bella serata cos'è che l'ha colpita particolarmente? Mi colpisce i lavoratori come si appassionano ai loro datori di lavoro che è una cosa che oggi giorno è difficile trovare sul mercato Allora chi fa cooperazione vera veramente poi detrae i frutti